Una provincia tranquilla, dove però sono due i fenomeni più preoccupanti, la droga che attira sempre più giovani e la guida in stato di ebrezza, con dati veramente allarmanti, stando ai verbali redatti nel 2007. Questo in sintesi il messaggio lanciato in mattinata ad Ascoli dal questore Giuseppe Mastro Giovanni e dal tenente Adelino Manni, che hanno tracciato un bilancio delle azioni intraprese dagli agenti nell'anno 2007 in tutto il territorio provinciale. A preoccupare maggiormente le forze dell'ordine è il consumo in forte crescita delle droghe, che trovano un mercato assai florido anche fra i giovanissimi e le persone che appartengono a classi sociali medio-alte. Nel 2007, nelle varie operazioni a carico della polizia nel territorio ascolano, sono stati sequestrati 1450 grammi di eroina, 1200 grammi di cocaina, 275 grammi di hashish. Sempre nell'anno passato, fra i fenomeni in crescita, il questore ha segnalato l'aumento di incidenti stradali mortali, ma al tempo stesso anche l'aumento dei fermi per guida in stato di ebrezza. Tutti i giorni, ha spiegato il questore, facciamo due o tre multe per questa violazione. Significa che nell'anno sono state 600-700 su quasi 10.000 infrazioni contestate. Un numero enorme che preoccupa come preoccupa anche il fatto che cresce il fenomeno di chi fugge dopo aver causato un incidente stradale. Nel 2007 sono stati rilevati complessivamente 1977 incidenti stradali, di cui 14 mortali, e fra questi 11 causati proprio da automobilisti con un tasso di alcol superiore ai limiti di legge. Un plauso, invece, è stato fatto dalle autorità per la condotta dei tifosi Ascolani e San Benedettesi, per essersi distinti in educazione e rispetto durante tutte le partite del campionato. I 43 provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi sono tutti stati messi in atto nei confronti di tifosi in trasferta, in particolare a supporters del Perugia, del Vicenza e della Fermana. Insomma, la polizia di Ascoli continua a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e domani si concederà anche un giorno di festa. A partire dalle 9, infatti, si darà il via alla cerimonia in Piazza Roma, con la deposizione della corona di fiori per festeggiare i 156 anni della polizia di Stato.